Salve ragazzi, ben tornato sul nostro canale Allora siamo di nuovo qui con The Division E praticamente volevo andare a fare la missione di Hudson Yard Vai al rifugio Andiamo, vediamo cosa... Attenzione agente, ho qualcosa di importante per te Ingresso in un'area sicura Ok, e quindi qui sarebbe un altro rifugio? Sì, cioè, sì, sarebbe un rifugio Però non... Ottimo lavoro, agente Ah, proprio così In ogni rifugio troverai missioni e incontri Sono inoltre i due servizi come venditore Ok, rifugi, app sociali Puoi incontrare altra gente Puoi usare la stazione Ma ci vuoi trovare un gruppo Apri la mappa, selezione il rifugio Bloccare, premere la data Per usare lo spostamento rapido Ok, grazie Ok, grazie Allora Anzitutto andiamo di rifornimenti E va bene Scorta Ah, qua è dove possiamo mettere la nostra roba Veditore e armi Vediamo che cos'è Allora, non mi piace Non mi piace Non mi piace Lo scar Cazzo, bella questa Che tra l'altro questa è anche molto, molto meno Lo scar Rp è troppo, troppo pesante Eh, vabbè Vendi Vendiamo qualcosa No Ma questo che parla? Ma lo fate parlare? Vabbè Non te ne pentirai Allora, va bene Tu chi hai? No, rapporto no, grazie Ma, dico lei Ha solo armi Non ha nient'altro, eh Va bene Guardate le spalle là fuori Sì, va bene, grazie Mi guarderò alle spalle Eh, qua che è? Chi è sto disastro? Ma poi non è Grazie, grazie Che rapporto ci piace nessuno E sono sicuro che sia un piacere conoscere me Forse mi avrei visto in televisione Nel mio leggendario ruolo da agente segreto nella sop più amata di sempre Quindi posso capire quello che stai passando Ti manderò delle informazioni sulle zone calde, ok? Vabbè, fanculo tutti, vero? Le serie tv Va bene Quindi era così, proprio Io ero già pronto a distruggere questo mondo e quell'altro Attenzione, stai per uscire dall'area sicura Ho capito, va bene Agente, ci sono dei rifornimenti da recuperare Prima che qualcun altro ritrovi Possiamo farcela Qua vicino, eh? Sì Sì Ma si vado direttamente a sinistra Devo fare un... 70 km per non arrivarci Vabbè 70 metri Difendi i rifornimenti Va bene Allora uccideremo qualche cattivo qua Perché volevo provare questo nuovo fusilotto che... Attenzione, nemici in arrivo Attenzione Nemici in arrivo Nemici in arrivo Nemici in arrivo Va bene Dove sono, dove sono, dove sono? Fatemeli vedere Che ucciderò tutti a mani nude Allora Allora, allora Attenzione, scorte sotto attacco Eh, ho capito Mi fai arrivare per favore Se arrivo Oh, eh, vabbè Distruggetele prima che arrivo A questo punto Attenzione, rilevata presenza ostile Sì, vabbè Ma Eeeh Piuttosto stabile Sto fucile Mi piace Mi piace veramente molto Molto, molto stabile Mi piace, cazzo Questo è veramente figo Ok, è andato Aspetti, c'è ancora lei Ok Eh, vabbè Attenzione, rilevata presenza ostile Cazzo, ancora Dove, dove Lei se ne va Oppure resta qua a prendere A prenderle Cazzo, sono veramente tanti, eh Non riesco a vedere nulla Non vedo nulla, cazzo Ragazzo No, 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 no Vattene Ho venuto tutto Ma io Allora Stai fermo Ok Perfetto Ringrazio Te ringrazio Allora, ora Andiamo a liberare Gli ostaggi qua Sì, eh Dammi un secondo che trovo la chiave, eh Che cazzo ho preso Ah, chiave stagge Vediamo qui che mi da Parti elettroniche Va bene Qui che c'è Un'altra cassa Sembra parti elettroniche Va bene A questo punto faremo gli elettricisti da grandi Facciamolo uscire Per carità C'è una chiave qui da qualche parte Sì, sì, lo so Abbi fede, eccomi I civili sono stati salvati Quanto sono forti, eh Lo so, lo so Mi faccio passare Voglio vedere che c'è Mi scusi Allora Mi hai letteralmente salvato la penne Va bene Non è che Stavi per morire Poi così tanto Totalmente Bello Quanti da caccia Saccheggia Qui c'è qualcosa da aprire Con il grimondello Però io sono Sono molto curioso Apro Una cassaforte Spero Vediamo cosa c'è Cosa c'è Uh Una cassa abbastanza grande Cazzo Cazzo Che figata Che figata Abbiamo preso Mi sa Lo stesso fucile Solo questo È veramente Veramente forte Allora Andiamo a vedere Andiamo a vedere Subito Allora Innanzitutto Vediamo Inventario Guardiamo un po' I guanti No I guanti Cazzo I guanti I guanti I guanti Da caccia Va bene Ci sta Ok Sono un pochino Un po' più Però va bene Poi andiamo a vedere Qua E Bello Eh sì Come quello che abbiamo Allora Compensatore Vai Poi Eh Vai Poi Ottica Questa qui Vai Ok L'abbiamo equipaggiato? Equipaggio Prova Però lo metterei Su arma primaria Ok Perfetto Così va bene Ok Adesso abbiamo Il nostro primo fucile Blu Carino Ora Rifugio Rifugio Missione secondaria Se non è Se non è troppo distante Possiamo provare A farla No Eh non posso Mi dispiace Allora ragazzi Con Questo secondo video Diciamo che ci saluto Adesso facciamo un po' Di missione secondaria Anche perché Voglio salire un po' Di livello Così in modo da continuare Con la storia principale E con i vari Continuano a spegnersi Le luci dell'ufficio pure Va bene Va bene Va bene Eh Vediamo Ci sono vari tipi di missioni Volevo fare un po' Le missioni secondarie Per salire un po' E basta Un po' di livello Allora Quelli con lo scudo Volebbero essere Quelle di difesa Panoramica missioni Ok 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 Ovviamente La La specie di saetta O quelle Di ripartimento Tecnologico La Quelle verdi Sono del dipartimento Medico E quelle A forma di scudo Sono del Dipartimento Di l'altro Dipartimento Adesso non mi viene in mente Va bene Insomma Cercheremo un po' Di portare avanti Sia le secondarie Che anche le missioni primarie E fare salire così In un modo adeguato Anche L'omino Un'arma blu Non male Va bene Ragazzi Allora Con questo video Ci salutiamo qua Nel prossimo video Faremo qualche missione O secondario Qualche missione De qualche dipartimento Allora Come sempre Io vi chiedo Di iscrivervi al canale Per continuarci a seguire E di seguirti su vari social Per vedere il dietro Delle quinte E il nostro lavoro Che è veramente bellissimo Appassionante Noi lo facciamo Come diciamo Passatempo E per hobby Diciamo Non è che lo facciamo Con un'idea ben precisa O per un obiettivo preciso Lo facciamo per farlo E ci piace E continueremo a farlo Non ci fermerete Al limite Che qualcuno muoia Va bene Detto questo ragazzi Allora Ci salutiamo qua Ci rivediamo Con il prossimo video Di The Division E mi raccomando Come scorte distrutte Ma dai Va bene Va bene ragazzi Ci vediamo Con il prossimo video Di The Division Un saluto Dall'Adi Saster Ciao a tutti